Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo a Taranto, in via Mezzetti, nei pressi della chiesa San Roberto Bellarmino. Diciamo che è la strada, arriviamo al semaforo, giriamo e troviamo Corso Italia. Quindi è una zona abbastanza trafficata e voglio così segnalarvi lo stato di degrado assoluto in cui si trova questo tratto di strada. Intanto vedete le erbacce ai lati, sembra quasi una foresta urbana, passatemi questa espressione, l'erba cresce, si moltiplica sempre più, non viene tagliata e ovviamente ciò determina un annidarsi di insetti e quant'altro, altri animali non certo piacevoli per quanto riguarda il discorso della sicurezza sanitaria, dell'igiene. Vedete, pure non ci vorrebbe niente a rimuovere, a tagliare questa erba. Oltretutto qui la pavimentazione, qui c'è solo il cemento, non sono mai stati messi mattoni, motivo per il quale, vedete, l'umidità cosa crea. È diventato un tappeto verde per quanto riguarda determinata la cosa dall'umidità e peraltro diventa particolarmente scivoloso. Questa umidità determina, crea a terra una superficie scivolosa, una sorta di poltiglia. Considerando qui che ci sono molti anziani che vanno a fare la spesa, che vanno in chiesa, è davvero un pericolo. L'aspetto altrettanto grave è quello rappresentato dalla presenza degli escrementi di cani. Per carità, la responsabilità è dei padroni sporcaccioni, di questi incivili, che portano il cane a passeggio. Noi amiamo e rispettiamo i cani, però i padroni devono essere muniti di paletta ecologica per rimuovere e poi raccogliere gli escrementi del proprio cane. E davvero diventa una situazione schifosa. Vedere gli escrementi, la gente poi ci passa sopra, si sporca le scarpe, rischia di scivolare, di cadere e addirittura rimangono proprio a terra degli strati di escrementi. Ecco, ho voluto rappresentare questa situazione rispetto alla quale ci vuole davvero poco per intervenire. E per quanto riguarda gli escrementi c'è un solo sistema. Potenziamo i controlli, mettiamo i vigili in borghese. Perché tanto si sa che gli sporcaccioni portano la mattina i propri cani a fare i bisogni. E allora un bel vigile in borghese li becca e li frega con le mani nella marmellata. Dovrei usare qualche espressione più colorita, visto che stiamo parlando di escrementi e non di marmellata, ma non voglio scadere nel volgare. Ecco, ho voluto rappresentarvi questa situazione per dire che qui siamo in una zona centralissima di Taranto, ma evidentemente è una zona abbandonata, dimenticata dall'amministrazione. Mi domando per quale motivo questo tratto di strada non sia stato pavimentato. È una strada di serie B? Chissà. Lo scopriremo solo vivendo. Grazie. 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 Grazie.